Avete il vostro iPhone aggiornato ad iOS 11? Benissimo! Adesso vi svelerò un trucchetto. Molti di voi lo conosceranno, quindi immagino già nei video dei discorsi del tipo ma lo sappiamo già da tempo, ma lo sanno tutti, anche i bambini, e io ve lo dico lo stesso perché sono sicuro che non tutti, non tutto il popolo di YouTube ne sarà a conoscenza. La dark mode su iPhone. In questo modo tutto è più nero. Allora ragazzi, la prima cosa da fare è andare nelle impostazioni del vostro iPhone, generali e accessibilità. Vedete? Qui accessibilità. Andiamo a cliccare su Regolazioni schermo, Inverti colori e dobbiamo semplicemente attivare Inversione colori smart. Tadà! Questo è il risultato. Tutto nero, tutto il display diventa nero con scritte bianche. Guardate, vi faccio vedere anche tornando indietro come è bello adesso questo menu delle impostazioni. Secondo me si risparmia anche un po' di batteria, non vorrei dire cose inesatte, però mi riservo di testare la batteria con la modalità dark mode attivata. Vedete tutto in nero. E cosa cambia? Innanzitutto il menu, il menu, diciamo, il centro di notifiche cambia tonalità. Vedete? Si passa più al viola, qua. Vedete anche voi come cambiano i modi di vedere un po' questi toggle, fra virgolette. E anche là la sezione foto, quindi diventa tutto di un altro colore, tutto nero, lo sfondo nero, con i bordi in bianco. Per il resto non noto altre differenze. Cambia ovviamente tutto il layout che prima era bianco, adesso è diventato nero. Quindi molto molto più bello da vedere. Vediamo anche un po' i messaggi. Ecco qua, cambia anche la tastiera, tutta nera, con ovviamente sfondo nero. I dark ameranno tantissimo questa modalità su iPhone, ovviamente ragazzi, cambia anche il tasterino numerico. Ovviamente per disattivare tale modalità non dovrete fare altro che tornare su generali, accessibilità, regolazioni schermo e tornare a deflaggare in versione colori smart. E voilà, tutto è tornato esattamente come prima. Bene ragazzi, con questo è tutto. Lasciate un bel like al video se vi è piaciuto, fatemi sapere se conoscevate già questo trucchetto per rendere ancora più figo e originale il vostro iPhone. E che dire, noi ci sentiamo presto qui su Deciasti, su YouTube, iscrivetevi al canale se non lo avete fatto e su Telegram sul gruppo Amici Deciasti. Ciaoone!